Altro argomento che abbiamo trattato in apertura, quello della scuola perché sta per una settimana decisiva. Lì c'è la possibilità, almeno così sembra in questi ultimi giorni, dalle dichiarazioni. Insomma c'è stata un'accelerazione, però c'è la possibilità di un maggior confronto sulla scuola. Ma guardi, io credo che ci sia la necessità e l'obbligatorietà di un confronto, nel senso che finora Renzi ha bleffato completamente. Allora intanto, diciamoci la verità, se questo sciopero che c'è stato è lo sciopero più grande di sempre, che coinvolge tutti, forse Renzi l'umiltà di dire qualcosa non avrò capito, aiutatemi a capire, dovrebbe averla. Però Renzi che fa, come al solito suo, come quando la settimana scorsa ha detto oggi mi confronto con le rappresentanze della scuola e alle due scadevano gli emendamenti in Parlamento. Se scadono gli emendamenti in Parlamento vuol dire che non hai alcuna intenzione di modificare la norma. A me pare che il governo si stia muovendo abbastanza così, mi sembra che questa riforma sia una riforma ridicola, è una riforma che mortifica la scuola, è una riforma che mortifica i docenti, è una riforma che mortifica i precari, è una riforma che porta nelle scuole quel principio che abbiamo tentato di combattere per anni nell'università, che è il principio delle baronie. E non ne abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di presidi che scelgano, assumano, licenzino e valutino i docenti, non abbiamo bisogno di costruire delle oligarchie, noi abbiamo bisogno di risorse nella scuola e sono risorse che Renzi ha promesso mille volte, dai tempi del suo insegnamento non sono mai arrivate, abbiamo bisogno di meritocrazia, abbiamo bisogno di dare una risposta a quelle migliaia e migliaia di precari che sono stati creati ad arte dallo Stato italiano. Oggi si vorrebbe decidere che ci sono precari di serie A e precari di serie B, per cui ci sono decine di migliaia di precari che hanno tenuto di fatto in piedi le scuole degli ultimi anni, che dopo dieci anni vengono presi e buttati per strada come se fossero spazzatura, dopo che hanno fatto i corsi di aggiornamento messi in piedi dallo Stato italiano. C'è una roba che francamente sembra proprio scritta da qualcuno che non capisce niente di scuola. Mi fa ridere, Renzi l'altro giorno ha detto a una docente, dice ma lei l'ha letta la riforma della scuola, verrebbe da dire a Renzi, ma perché tu l'hai letta? Perché se l'avessi letta probabilmente ti vergogneresti di quello che stai proponendo.